Buongiorno a tutti, noi cominciamo senza alcuna interruzione, siamo consapevoli che la nostra è l'ultima sessione per cui avete già un bel frullato misto di argomenti che però ci hanno molto interessato. Tra le domande, tra gli argomenti e tra le prospettive che sono segnalate come oggetto della nostra sessione vi è anche quello, ed era nella presentazione del convegno, quello dell'individuare l'effettivo costo delle procedure di risanamento e verificare se corrisponde ad effettiva realtà l'idea che le spese di procedure assorbano la parte più rilevante dell'attivo a scapito e danno dei creditori. I due temi che affronteremo sono quelli dei crediti prededucibili dei professionisti su cui in realtà saremo molto rapidi, per visto che io discuto degli argomenti con loro loro sono due gius lavoristi per cui mi limiterò io a fare alcune considerazioni e passeremo quindi ad affrontare alcune delle questioni più all'ordine del giorno della vita quotidiana dei giudici delegati e dei professionisti che operano nelle procedure in relazione ai crediti dei lavoratori dipendenti. Nella riforma in corso, con riferimento a questi due argomenti, sono posti due principi ed esigenze molto chiari che sono in realtà già immanenti nel sistema come principi comunitari e come principi costituzionali di tal che sono sicuramente anche principi interpretativi della normativa esistente. Quanto ai crediti dei professionisti e delle prededuzioni, all'articolo 2 vi è quello all'esigenza posta della riduzione della durata e dei costi anche attraverso di misure di responsabilizzazione e contenimento delle ipotesi di prededuzione in modo che non assorbano in misura rilevante l'attivo e è dato compito al legislatore di fissare anche dell'entità massima e limitandolo possibilmente ai casi di apertura delle procedure. Per i lavoratori invece il principio e l'esigenza che viene evidenziata in prospettiva è quella di armonizzare le procedure di gestione della crisi con forme di tutela fondate sulla Carta Sociale Europea e con un coordinamento della disciplina dei rapporti di lavoro nelle procedure coordinate con la legislazione in materia di lavoro, una esigenza che da tempo si avverte per una totale realtà quasi scollamento tra la disciplina delle procedure concorsuali e quelle che sono gli istituti del diritto del lavoro nel momento in cui incrociano la crisi dell'impresa. Quanti ai costi del concordato nelle procedure del campione? avete sullo sfondo una prima slide e poi ne seguirà un'altra che è quella che era stata redatta dal professor Paletta nell'analisi dei questionari OCI che furono presentati nei convegni del 2016 per cui è comunque un'indagine estremamente recente del 2016 sui concordati preventivi ed era stato fatto su tutti i concordati della Toscana e della Puglia e in questo voi vedete qual era l'entità numerica dei costi medi delle procedure consistenti in termini relativi, in termini assoluti, vediamo con la successiva slide quanti in termini relativi ma tali da dire che effettivamente l'esigenza della riforma è significativa ed effettiva perché va posto effettivamente un contemperamento tra le esigenze dei professionisti che sono il cui ausilio è imprescindibile perché vi sia una gestione delle crisi d'impresa e perché sia effettiva e sia efficace per cui sono dei costi non solo ineludibili ma assolutamente imprescindibili e questa invece è la slide che evidenzia qual è l'incidenza percentuale dei costi della procedura, spero che forse è meglio che li dica, ecco qui, no possiamo tornare indietro e qui vedete che le spese sostenute prima del deposito del ricorso vanno in una media dai 114 mila euro fino ai 180 mila euro e le spese relative alla fase esecutiva sui 199 mila e 521 queste due spese e altre spese 122 mila per cui un pacchetto di spesa significativo con un'incidenza sulla base di quelli che erano i dati desunti nella ricerca che fu fatta dalle relazioni aggiornate del 161 sul totale delle passività nell'ordine dell'1,9% sul totale delle attività del 2,7% e l'incidenza del totale sulle disponibilità liquide estremamente significativa del 58,1%. In realtà la questione, la criticità della prededucibilità delle spese dei professionisti si pone in modo serio in relazione ai concordati preventivi. Devo dire mai o quasi mai per i concordati che vanno in omologa perché semmai si tratta di una questione semplicemente di quantum e pertanto con riferimento a questo semplicemente di una verifica di proporzione dell'entità dell'impegno alla professionalità richiesta, le difficoltà della procedura e aveva i loro in gioco mentre non vi è mai una questione in realtà di collocazione del credito. Diversamente la questione si è posta con molteplici pronunce della Cassazione e anche alcuni orientamenti divergenti tra merito e Cassazione quando le procedure non vanno a buon fine sia per un arresto estremamente anticipato senza neanche arrivare all'ammissione sia invece con magari revoche del concordato per ragioni che possono essere le più varie da procedimenti che è l'articolo 173 a semplicemente per il mancato raggiungimento delle maggioranze previste per l'approvazione. Ecco io volevo dire sul tema della prededucizione ci sono due orientamenti della Cassazione di cui uno prevalente soprattutto in epoca più recente di cui però io volevo segnalare di come non siano in realtà così inconciliabili e non siano in realtà tali da imporre una lettura unica del dato normativo per i giudici di merito nel senso del riconoscimento sempre comunque della prededuzione. I due orientamenti non mi dilungo perché sono stati affrontati in tante situazioni ma ci tenevo anche per rimettere un attimo stabilire un principio su quello che è il ruolo degli organi della procedura dei curatori e dei giudici delegati e comunque i due orientamenti sono questi. Da un lato la Cassazione in modo prevalente dice che comunque l'avvio di una procedura perché nel sistema normativo è comunque visto come funzionale alla gestione della crisi di un'impresa ed è assistita da un favor, è assistita da una presunzione semplice di funzionalità della prestazione. Dall'altro ci sono invece altre sentenze e in tal senso è il merito che richiedono comunque che si è verificata in concreto la funzionalità intesa quale adeguatezza funzionale e utilità che deve essere valutata ex ante per cui al tempo dell'avvio della procedura e con riferimento alla funzionalità a consentire un salvataggio delle imprese e una migliore tutela dei creditori. Questo è secondo me, guardando bene il merito delle sentenze della Cassazione, quello che a me è parso di vedere è che tutti i casi in cui la Cassazione ha riconosciuto la prededuzione pure semplice per cui ha fatto le affermazioni più forti di assistenza del credito dalla prededuzione sono stati i casi in cui era stata quasi completamente carente se non del tutto carente la motivazione da parte dei giudici di merito sul perché della non ammissione cioè in fondo se vi è stata un'assistenza, se la procedura comunque si è avviata vi è stata magari addirittura un'ammissione da parte del Tribunale per cui vi è stato un vaglio del Tribunale su una legittimità della procedura e soprattutto una corrispondenza, questo è il termine forse chiave che bisogna avere in luce una corrispondenza dell'attività professionale al modello legale del concordato e alle sue fattispecie, allora se il giudice di merito nulla dice su tutto questo se non c'è nessuna valutazione non si vede veramente perché debba essere negata la prededuzione ma tutte le volte in cui il giudice di merito compie quello che è il suo compito tipico e sulla base delle valutazioni e contestazioni che il curatore deve fare con un'analisi dettagliata, accurata dell'attività che è stata svolta per cui valuta qual è stata la funzionalità in concreto allora lì non vi è ragione invece di riconoscere la prededuzione in tutti quei casi in cui non vi è stata nessuna funzionalità ma addirittura vi è stata una lesione dei diritti dei creditori tale da portare a dire che non vi è stata corrispondenza tra l'attività e il modello legale di riferimento del concordato che comunque i cui costi sono comunque a carico dei creditori perché questa è la pura e semplice verità è un debito che va a carico dei debitori e per cui non può, scusate, dei creditori e pertanto non può non essere vagliato se vi è stato effettivamente un comportamento coerente e proattivo dell'attività professionale rispetto al buon fine dell'operazione concordataria a me sono capitati non pochi casi in realtà devo dire purtroppo in cui le prededuzioni dei professionisti di concordati spesso con gravi 173 che con l'ordinaria diligenza per profili di inammessibilità del concordato che con l'ordinaria diligenza i professionisti avrebbero non solo potuto ma dovuto anche in base ai canoni ideologici evitare è ovvio che in questi casi l'assorbimento addirittura della possibilità di soddisfazione del primo grado del 2751 bis per cui il pregiudizio addirittura dei lavoratori non avrebbe potuto e non potrebbe giustificare in alcun modo la prededuzione se non addirittura più seriamente il pagamento con un'eccezione vera e propria di inadempimento ma questo tema lo abbandoniamo confidiamo nella saggezza del legislatore nel contemperare l'esigenza a poter usufruire di professionisti che svolgono un compito prezioso e garantendone comunque la soddisfazione del credito e passiamo invece ai temi del diritto del lavoro vero e proprio la prima domanda partiamo dalla fase prefallimentare perché quello che spesso ci si trova davanti la maggior parte delle stanze prefallimentari sono avanzate da lavoratori i cui legali spesso si scusano dicendo ma lo sa guardi facesse quel che vuole io l'ho fatto solo perché mi tocca devo accedere al fondo di garanzia ecco quali sono in estrema sintesi i i i casi in cui è davvero necessaria la dichiarazione di fallimento per l'accesso al fondo di garanzia quali sono i presupposti e perché e quali sono in questo senso le circolari IMS e le loro ragioni d'essere e lo chiediamo all'avvocato Bonetti buongiorno a tutti ringrazio ovviamente gli organizzatori del convegno in particolare la dottoressa Ragaglia che mi ha voluto quindi se non sarete soddisfatti delle mie risposte ovviamente vi ho dato un suggerimento di chi può essere responsabile fondo di garanzia fondo di garanzia do quasi per scontate le fonti legislative ovviamente 2120 in materia di trattamento di fine rapporto fondo di garanzia per il TFR introdotto dalla legge 297 dell'82 per le ultime tre messinità dal decreto legislativo 80 del 1992 che anche ha normato all'articolo 5 in materia di fondi complementari anche se all'epoca molto trascurati perché soltanto nel 2005 è arrivata la Grund Norm in materia il decreto legislativo 252 del 2005 che ha permesso ai lavoratori subordinati di scegliere e optare per l'eventuale conferimento di alcuni cespiti presso la previdenza complementare e poi contemporaneamente o quasi con la finanziaria per l'anno 2007 e poi con un decreto ministeriale attuativo si è aperto questo nuovo filone relativo al fondo di tesoreria queste sono le fonti normative a livello amministrativo invece siamo messi un po' male nel senso che l'unica circolare IMSS quella ancora a cui tutti i funzionari fanno riferimento è quella la numero 74 del 2008 purtroppo risalente è una circolare che anche a fronte delle domande che mi sono state poste dava già due risposte che avevano lasciato Basiti e i lavoratori e i curatori stessi nel senso che l'IMS diceva qualora non si proceda a una verifica dello stato passivo esempio classico articolo 10 della legge fallimentare non c'è e non si può dichiarare la fallibilità di un'impresa perché è trascorso già un anno dalla cancellazione della gestione imprese l'IMS negava la prestazione del fondo di garanzia stessa cosa articolo 102 il mancato attivo quindi il decreto del giudice delegato che chiude la procedura appunto perché non c'è possibilità di soddisfare i creditori anche in questo caso originalmente l'IMS diceva non puoi accedere al fondo di garanzia poi visto che c'è stato delle prassi in alcuni tribunali in primis Milano in cui addirittura dichiaravano un fallimento che non era dichiarabile proprio per dare modo ai lavoratori di insinuarsi e poi passare e formulare la loro domanda all'IMS ecco che l'IMS è venuto sui suoi passi e ha fatto una circolare la numero 32 del 2010 in cui ha esteso nelle due ipotesi poc'anzi spiegate la possibilità per i lavoratori di accedere al fondo e come circolari l'unica altra che ho rinvenuto in dieci anni così di consultazioni l'unica è questa del 2012 ma che poco ci interessa cioè l'estensione degli aventi di diritto anche per le società finanziarie essendo quella un'accessione di credito e non una delegazione di pagamento per quanto riguarda le imprese insolventi io distingo sempre imprese insolventi quindi fallibili quindi guardiamo l'articolo 1 della legge fallimentare rispetto alle imprese non fallibili quindi inadempienti i requisiti che la circolare IMS prevede al fine di formulare la domanda relativo fondo sono l'accessazione di un rapporto di lavoro subordinato l'apertura di una procedura concorsuale e l'esistenza ovviamente di un emolumento retributivo fondamentalmente trattamento di fine rapporto ma eventualmente anche le mensilità le ultime tre mensilità come da direttiva europea o ancora un credito per previdenza complementare che sia rimasto insoluto che il datore di lavoro non abbia soddisfatto per quanto riguarda la cessazione del rapporto subordinato ovviamente è qualsivoglia tipologia di cessazione quindi non solo una risoluzione che arriva da parte datoriale con un licenziamento ma può essere anche una dimissione del lavoratore può essere la scadenza del termine in un contratto a tempo determinato può essere persino una risoluzione consensuale questo ovviamente è un problema interno all'Inps lo verifica direttamente il funzionario basta che consulti il modello Unilav che è semplicemente il modello in cui si comunica l'avvio l'instaurazione o la cessazione di un rapporto di lavoro presso il centro per l'impiego più problemi ovviamente riguardano l'apertura delle procedure concorsuali quali sono le procedure concorsuali in base alle quali poi il lavoratore può ricorrere al fondo di garanzia fallimento liquidazione quota amministrativa amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi concordato preventivo e da ultimo con dignitosa calma perché l'Inps l'ha previsto nel 2015 a fronte di una norma della numero 3 del 2012 abbiamo dato l'avvio anche alla possibilità di erogare il trattamento dal fondo di garanzia anche per le procedure di sovraindebitamento c'è una novità una novità che vi segnalo c'è stato un messaggio dell'aprile di quest'anno il 16-46 che prevede per la prima volta la possibilità anche per imprese insolventi quindi fallibili per i laboratori ovviamente di chiedere di formulare la loro domanda presso il fondo di garanzia anche a prescindere da un accertamento giudiziale perché ovviamente tanto che parliamo di imprese insolventi l'Inps vuole una sentenza dichiarativa di fallimento vuole una procedura concorsuale perché passa il vaglio di un giudice la stessa cosa nel caso di imprese in adempienti l'Inps necessita perlomeno di una sentenza di un decreto aggiuntivo sempre un provvedimento giudiziale qui per la prima volta l'Inps ha un po' aperto le porte e si dice che in caso di chiusura del fallimento senza accertamento del passivo accidento 2 quindi per mancanza di attivo io posso ricorrere io lavoratore posso ricorrere al fondo di garanzia senza precedente accertamento giudiziale purché tre condizioni contestuali il datore di lavoro fallito sia una società di capitali questo è ovvio anche perché non può il lavoratore procedere nemmeno in via esecutiva anche perché trova l'ufficio giudiziario la porta chiusa e per questo si può arrangiare tranquillamente il funzionario Inps basta guardare le banche dati ma poi l'Inps richiede ancora che il lavoratore dipendente sia stato licenziato direttamente dal lavoratore in una delle modalità licenziamento individuale o collettivo che poi chiacchiereremo sul punto e terzo presupposto che il lavoratore abbia presentato istanza di emissione al passivo prima della data di deposito del decreto ai sensi del 102 bene bene nel senso valutiamo positivamente questa prima apertura io penso che prima di arrivare a un automatismo delle prestazioni anche per il fondo di garanzia ce ne vuole anche perché ne parlavamo anche ieri sera ci sono tanti casi in cui si invoca il fondo a prescindere da un fondamento giuridico addirittura da un rapporto di lavoro quindi se noi cominciamo ad aprire una porta in maniera troppo ampia la finire che tutti vengono a insinuarsi e tutti vengono a chiedere determinati soldi al fondo di garanzia a scapito ovviamente delle casse dello Stato quindi positivo da un lato ma ci sono dei dubbi primo dubbio che mi è venuto perché io ti do questa possibilità di addirittura il fondo solo in caso di licenziamento del curatore il licenziamento del curatore riguarda soltanto quella quota parte di manodopera che lui si è ritrovato il giorno della sentenza dichiarativa di fallimento ma ben può essere che la settimana prima uno si sia dimesso per giusta causa proprio perché non mi dava le retribuzioni perché l'impresa era assolutamente pre-decotta altro dubbio tanti lavoratori nemmeno riescono a insinuarsi al passivo tempestivamente proprio gli stessi lavoratori cioè chi lavora fino a quel momento chi magari fa la stessa istanza di fallimento è sul pezzo conosce benissimo lo stato di decozione del datore di lavoro ma i lavoratori che hanno smesso uno, due, tre mesi prima magari nemmeno sanno gli arriva potenzialmente l'articolo 92 ma ci sono tantissimi lavoratori che addirittura devono dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato quante persone sono iscritte a partita IVA collaboratori co-co-co attualmente non più co-co-pro quanti ex associati in partecipazione con l'apporto di lavoro quante persone devono appena rinvenire pizzini per andare a insinuarsi e quindi torniamo un po' il problema rimane quello che era già prima come faccio io a chiedere intervento del fondo di garanzia l'unico suggerimento che io mi sento di dare è quello di tornare dal giudice del lavoro dimostrando ovviamente meglio se con busta e paga con certificazione unica con codex come si chiamava che sussiste un credito per il TFR e o per le tre emissività e o per la previdenza complementare e che vi sia stato una materiale impossibilità di insinuarsi tempestivamente prima appunto che il curatore abbia chiesto al giudice l'emissione del decreto ex articolo 102 del resto del resto vabbè il problema dell'esistenza del credito per TFR ovviamente ve lo lascio così del resto che cosa si chiede invece l'Inps in caso di imprese inadempienti sempre l'accessazione del rapporto di lavoro subordinato la non associabilità del datore di lavoro a procedure concorsuali sia ex articolo 1 per mancanza appunto dei tre requisiti vi descritti sia ai sensi dell'articolo 10 e o dell'articolo 102 ma anche chiede l'Inps che ci sia un'insufficiente garanzia patrimoniale cioè io devo precostituirmi un titolo appunto una sentenza un decreto giuntivo o addirittura un verbale di conciliazione reso in sede sindacale e poi devo fare almeno un serio ed adeguato tentativo di esecuzione forzata solo all'esito della quale consegno tutto quanto all'Inps e l'Inps ovviamente avendo un'esistenza di credito così dimostrata mi paga il fondo e chiudo citandovi di fatto quella che è una pronuncia un arresto della Corte di Cassazione che mi pare puntuale sul punto che ci viene a dire che in tema di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia presso l'Inps ove il lavoratore dimostri di non essere stato ammesso al passivo del fallimento e tale emissione si è resa impossibile dalla chiusura tempestiva rapida anticipata della procedura per insufficienza di attivo il lavoratore quindi anche in questo caso a prescindere anche se l'azienda potenzialmente era fallibile deve procedere a un tentativo di esecuzione forzata nei confronti dei datori di lavoro in bonus l'inutile esperimento di esecuzione diventa condizione necessaria per poi presentarsi agli sportelli dell'Inps allora e una volta dichiarato il fallimento la mia successiva si mette si torneo di nuovo si torni nella mia ecco e una volta invece dichiarato il fallimento ci sono tutta una serie di questioni che si pongono sulla quale sia no quella è prima no sui sile sorti dei rapporti di lavoro nell'ambito della ricerca che fu fatta dall'OCI nel 2016 furono fatte i cui risultati saranno oggetto di una pubblicazione che dovrebbe uscire perché in fase di stampa alla fine del mese per cui tra poco potrete leggerla studiarla e consultare questa ricerca molto ricca avremmo esaminato varie questioni per cui quali erano le conseguenze giuridiche del fallimento sui rapporti di lavoro la disciplina del recesso e subento del curatore nei rapporti questioni in tema di ammissione al passivo i ticket su licenziamento accordi si renda cala ed ero che è il 219 e poi il concordato con continuità con continuità aspetti stiamo facendo dei grandi vertici i concordati con continuità il piano di concordata e i licenziamenti collettivi procedendo nell'ordine vedete qui alle mie spalle la risposta ai quesiti del questionario OCI la prima domanda era se il rapporto di lavoro subordinato a seguito della dichiarazione di fallimento fosse risolto di diritto sospeso questa è la risposta prevalente il 77,4% o inefficace se ancora l'altra domanda era se in assenza di esercizio provvisorio autorizzato o di determinazioni comunque assunte dal curatore nel senso della continuità del rapporto di lavoro già inserato il lavoratore maturasse un credito per il compenso maturato in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e qui vediamo un secco no per cui vediamo il regime assolutamente speciale del fallimento e vedremo la compatibilità in realtà con anche la direttiva insolvenza e se la decisione del curatore assunta ai sensi dell'articolo 72 prima comma di non subentrare nei rapporti di lavoro possa essere priva di motivazione o debba invece rispettare la legge e pertanto su materia di licenziamento e avere una comunicazione specifica dei motivi di l'eccesso e quali essi debbano essere e qui la risposta era anche in questo caso prevalente e nel caso di obbligo di motivazione se la motivazione possa o meno limitarsi a richiamare la mera dichiarazione di insolvenza con percentuali abbastanza prossime tutte queste risposte sono state da noi articolate in una serie di domande al professor Albi che è ordinario di un'università di Pisa in cui su che cosa succeda quali siano le interferenze tra la normativa fallimentare e invece la disciplina propria del diritto di lavoro e pertanto lui queste domande le conosce mentre voi le avete sullo schermo è pregato di darci una risposta su quali sono questi regimi interferenti intanto grazie per l'invito non per le domande per l'invito sicuramente le domande pongono una serie di questioni molto importanti e comunque davvero a parte gli scherzi mi piace ringraziare gli organizzatori promotori di questa iniziativa per avermi invitato dimostrando una importante sensibilità su una questione molto complessa che è l'intreccio fra diritto del lavoro e diritto fallimentare perché si tratta di due materie che rispondono a razioni sfunzionali molto diverse ma che hanno al tempo stesso dei punti di intersezione che allo stato attuale sono stati approfonditi solo dalla riflessione giurisprudenziale perché questo è l'elemento che purtroppo dobbiamo mettere in evidenza cioè c'è certamente anche una riflessione dottrinaria su questi temi ma non è una riflessione che si è sviluppata ad esempio nel diritto del lavoro come si è sviluppata sul terreno della riflessione dei giudici fallimentari e questo crea una serie di complesse questioni io direi che per rispondere alle domande che mi sono state formulate bisogna partire da una premessa fondamentale e cioè che noi abbiamo quindi quando noi diciamo appunto io qui ho segnata la domanda dopo la dichiarazione di fallimento che succede al rapporto di lavoro e la domanda successiva è quali sono i rapporti tra il 219 comma 2 del codice civile e l'articolo 72 della legge fallimentare ora io intanto ricordo cosa prevede l'articolo 219 comma 2 non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda questa è la formula contenuta nell'originario e vigente testo del comma 2 dell'articolo 219 poi dall'altra parte vi ricordo l'incipit dell'articolo 72 della legge fallimentare se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando nei confronti di una di esse è dichiarato il fallimento l'esecuzione del contratto fatta salve delle diverse disposizioni della presente sezione rimane sospesa fino a quando il curatore con l'autorizzazione del comitato dei creditori dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendo tutti i relativi rapporti ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che nei contratti effetti reali sia già avvenuto il trasferimento di diritto primo comma dell'articolo 72 della legge fondamentale ora queste disposizioni intanto collocazione temporale concepite elaborate scritte nel 1942 il diritto del lavoro segna rispetto a quel momento originario una profonda evoluzione uno stravolgimento un capovolgimento radicale delle sue origini perché ricordo che nel 1942 il 219 si colloca nell'ambito del libero licenziamento nel 1942 il licenziamento è libero con la precisazione e qui in questo senso una illuminazione forse del codice del 42 quando ci dice che non costituisce giusta causa appunto il fallimento il legislatore del 42 ha un'illuminazione cioè comprende che non si può ovviamente considerare il fallimento una causa in sé che comporta l'estinzione del rapporto di lavoro quindi c'è una apertura una illuminazione non è l'unica perché in questa brevissima considerazione introduttiva dobbiamo sempre considerare che nel codice del 42 c'è un'anima sociale 2110 codice civile la sospensione del rapporto la malattia o in genere in quella fase storica abbiamo profili di protezione sociale del lavoro penso al reggio decreto del 23 sull'orario quindi ci sono degli elementi che vanno in questa direzione protezione sociale del lavoro vi sono ovviamente elementi invece di natura diversa la disciplina del licenziamento ricordo in quel periodo è libera quindi il licenziamento è libero io non devo motivare il licenziamento quello che ci dice il 219 comunque sul tema del licenziamento è come se il legislatore del codice del 42 in quel momento ci dicesse badate bene il rapporto di lavoro per me se parliamo del licenziamento è un rapporto come gli altri perché si recede liberamente ma la stessa cosa ci dice l'articolo 72 della legge fallimentare il legislatore ci dice badate bene per me il rapporto di lavoro è un rapporto come gli altri non ci sono differenze ora in questa rappresentazione per me non ci sono differenze io sono il legislatore e te lo sto dicendo in questa rappresentazione originale si inserisce una lunga evoluzione della giurisprudenza diretta a rielaborare questo punto di partenza e introdurre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente degli elementi di protezione sociale del lavoro anche nella vicenda della crisi di impresa in senso generale ovviamente io non vi farò la storia evolutiva del diritto del lavoro dal 42 a oggi perché sarebbe una storia peraltro neanche lineare quantomeno nella fase più recente ma senza dubbio in questo discorso noi non possiamo trascurare alcuni elementi di derivazione comunitaria e quindi la direttiva 94 del 2008 in tema di insolvenza la direttiva 23 del 2001 in tema di trasferimento d'azienda e la direttiva 59 del 1998 in tema di licenziamenti collettivi perché in queste tre direttive vi sono delle indicazioni importanti sull'esigenza di protezione sociale del lavoro e quando parlo di protezione sociale quindi mi riferisco a qualcosa di più ampio della protezione che c'è dentro il rapporto di lavoro dentro il rapporto fra le parti e sono elementi che nella interpretazione del quadro vigente o nella costruzione del quadro diciamo di possibili riforme che potrebbero materializzarsi in tempi anche abbastanza recenti e se ne parlava ieri e su questo qualche considerazione si potrà fare noi dobbiamo dire questo che certamente secondo l'articolo 72 c'è la sospensione del rapporto di lavoro questo già oggi è così ora il punto qual è è che questa sospensione del rapporto di lavoro viene trattata diciamo così dal legislatore del 42 secondo quell'ottica di indifferenza rispetto alla circostanza che c'è un rapporto di lavoro subordinato per me il rapporto è sospeso quindi qual è il problema è come se ci dicesse il reggio decreto è sospeso punto il problema è che noi non possiamo limitarci a dire che è sospeso dobbiamo interrogarci su una questione ma qual è la protezione giuridica che si accorda al lavoratore in questa fase di sospensione ora è evidente che la protezione giuridica non si può materializzare nella dinamica del rapporto fra le parti e quindi io vi dico sommessamente che non vedo altre strade che quella di garantire l'intervento degli ammortizzatori sociali in questa fase della sospensione non vedo altre strade certamente non possiamo dire che il rapporto rimane sospeso e il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione ma neanche alcun intervento non è destinato ad alcun intervento di protezione sociale possiamo comprendere che non si può tenere attivo un rapporto se ne mancano i presupposti dal punto di vista della dinamica contrattuale in senso stretto ma pensare che alla luce della direttiva insolvenza il lavoratore non percepisca la retribuzione e non percepisca neanche alcun intervento non sia destinatario di un intervento di protezione sociale secondo me qualche problema ce lo può porre quindi è evidente che se stiamo all'interpretazione più secca diciamo così e letterale dell'articolo 72 primo comma c'è un vulnus per i diritti del lavoratore nella dinamica della protezione sociale più estesa non nella dinamica stretta del rapporto individuale quindi e questa è la prima questione seconda questione quali sono le modalità di comunicazione e di motivazione della scelta della non prosecuzione del rapporto ecco qui vorrei dire subito una cosa se accettiamo che c'è una fase sospensiva del rapporto su cui a mio avviso deve innestarsi la protezione sociale di cui dicevo prima dobbiamo immaginare che il rapporto del lavoro il rapporto di lavoro scusate nella crisi di impresa non è oggetto di una sorta di diritto derogatorio in senso generale no? per cui sostanzialmente si vive in una sorta di mondo parallelo rispetto al diritto del lavoro e allora cosa intendo dire? intendo dire che quando noi diciamo e in questo senso le risposte e i quesiti che abbiamo detto prima sono assolutamente quelle della maggioranza diciamo che sono assolutamente da condividere quando noi diciamo non prosecuzione noi diciamo licenziamento quindi questo diciamo se il rapporto non prosegue vuol dire che si estingue quindi se il rapporto è sospeso è sospeso se non prosegue si estingue e allora non ha ecco in questo senso mi permetto di dire immaginando un'ipotesi diciamo innovativa noi possiamo dire che l'assoggettamento del datore di lavoro al fallimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento non c'è un automatismo cioè se c'è il fallimento allora c'è il licenziamento sappiamo che quasi sempre c'è questo automatismo però non lo possiamo scolpire nella legge una volta per sempre proprio perché se parliamo di crisi di impresa e parliamo di una dinamica che non è solo quella finalizzata diciamo così alla distruzione creatrice di matrice schumpeteriana ma pensiamo anche all'ipotesi di salvare il complesso aziendale quindi la capacità di salvare un patrimonio aziendale fatto anche di risorse umane di figure aziendali importanti se pensiamo a questo non dobbiamo precluderci la possibilità che tutto ciò che facciamo si chiuda con il licenziamento però è evidente che la scelta che si compie che è quella di recedere dai rapporti lavoro è una scelta che è soggetta a degli obblighi di motivazione non c'è dubbio che è così e non può che essere così alla luce della disciplina anche comunitaria quindi bisogna motivare è evidente però che la motivazione può essere più semplice da questo punto di vista di fronte all'evidenza dell'insolvenza di fronte alle difficoltà insormontabili non dobbiamo immaginare una motivazione così approfondita certo quella motivazione è necessaria e se immaginiamo dunque che la motivazione è un atto necessario appunto nel dare fondamento all'esercizio di un potere l'esercizio di un potere nell'ottica del diritto del lavoro è sempre oggetto di una motivazione quindi non è che io posso estinguere un rapporto senza motivare poi vi sono delle eccezioni ma appunto sono eccezioni alla regola generale ecco però da questa affermazione si passa a quella successiva cioè quando noi diciamo quali le diversità di disciplina in base al numero dei dipendenti a questa domanda non possiamo che rispondere guardandoci allo specchio e guardando quindi la disciplina lavoristica di natura generale e quindi in questo senso abbiamo qui da tenere presente che nella storia del diritto di lavoro e nella sua attuale vigenza vi è una separazione che attiene alle dimensioni occupazionali del datore di lavoro a questa diciamo tradizionale distinzione che attiene alla dimensione occupazionale se ne è aggiunta una più recente nel 2015 che attiene diciamo ad una sorta di ventura possiamo dire così cioè sei stato assunto prima del 7 marzo 2015 oppure sei stato assunto dal 7 marzo 2015 quindi quelle che possiamo definire io le definisco le generazioni contrattuali non in termini di età anagrafica del lavoratore ma in termini proprio di vita e di durata del contratto di lavoro se il tuo contratto di lavoro a tempo indeterminato è anteriore o posteriore alla fatidica data del 7 marzo ne derivano conseguenze importanti per la tua protezione giuridica in caso di licenziamenti legittimo quello che comunemente si definisce il contratto a tutele crescenti disciplinato dal decreto legislativo 23 del 2015 e allora qual è la diversità di disciplina in base al numero di dipendenti partiamo da questa prima considerazione il datore di lavoro imprenditore o non imprenditore che occupa le proprie dipendenze più di 15 dipendenti o 60 nel complesso in caso di licenziamento illegittimo si applicherà l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori e quindi tutela reintegratoria nel posto di lavoro con corrisponzione al lavoratore tutte le retribuzioni nel momento di licenziamento fino all'effettiva reintegrazione il vecchio terribile articolo 18 dello statuto dei lavoratori vecchio ma vigente e questa disposizione si applica a quei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che siano sorti fino al 7 marzo 2015 per gli altri rapporti invece c'è una tutela debole ora non entro magari troppo nel dettaglio perché articoliamo troppo il discorso però diciamo la tutela debole è una tutela economica quindi la vecchia legge 604 66 vecchia ma vigente ci dice che in caso di licenziamento illegittimo si va da un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 6 mensilità che possono diventare 10 in base all'anzianità di servizio del lavoratore addirittura 14 in base sempre all'anzianità di servizio del lavoratore il decreto 23 2015 ufficializza invece una generale regola che è quella della protezione solo economica indennitaria per i controlicenziamenti legittimi e ci dà dei parametri che sono molto modesti rispetto a quelli dell'articolo 18 da un minimo di 4 mensilità fino a un massimo di 24 mensilità che aumentano in relazione all'anzianità di servizio del dipendente lungo un arco di 12 anni quindi da 2 mensilità per ogni anno di servizio quindi se il lavoratore è stato assunto l'8 marzo del 2015 nel 2027 se viene licenziato illegittimamente avrà diritto a 24 mensilità ma se viene licenziato l'anno dopo avrà diritto a 4 mensilità perché questa è la soglia minima quindi c'è questa forte divaricazione della protezione contro i licenziamenti legittimi ora licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali plurimo e questa sembra veramente una domanda da esame di diritto del lavoro quando si vuole vedere se lo studente è preparato e gli si dice ma scusi quando si applica la disciplina di licenziamenti collettivi e lo studente che sbaglia anche se ha studiato risponde quando il datore di lavoro licenzia almeno 5 dipendenti in 120 giorni e pensa di avere risposto correttamente lo studente ma ha sbagliato perché ha sbagliato perché l'articolo 4 della 223 ci dice che il datore di lavoro ha intenzione di procedere ad almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni quindi non è che conta quanti licenziamenti effettuerà ma conta quanti ne ha programmati di fare per cui se inizialmente ha programmato di licenziare 6 dipendenti e poi ne licenzierà uno solo dovrà comunque applicare la procedura di licenziamento collettivo questo ci dice la giurisprudenza e questo perché c'è un dato testuale cioè conta il programma di riduzione del personale non conta il risultato conclusivo di quella operazione però non c'è dubbio che ove il datore di lavoro abbia intenzione di procedere ad almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni non siamo più nel licenziamento individuale ma siamo nel licenziamento collettivo e questo perché è la direttiva comunitaria che ci dice guardate che avete certo la direttiva non ci dice almeno 5 in 120 giorni però ci dice che dobbiamo condizionare l'applicazione della procedura di licenziamento collettivo che ha delle ricadute sociali e quindi in questo senso è necessario che vi sia l'intervento dell'autonomia collettiva delle organizzazioni sindacali e l'intervento dei pubblici poteri e questo avviene quando il licenziamento oltre a assumere un rilievo nel singolo rapporto ha delle ricadute sociali quindi perché il licenziamento collettivo è tale ed è soggetto a quella procedura per le sue ricadute sociali perché è evidente che un conto è licenziare un dipendente un conto è licenziare 100 dipendenti magari in un'area geografica nella quale esiste solo una grande impresa che ha 300 dipendenti e intorno nel raggio di 50 km ci sono questa grande impresa e qualche altra piccola attività è evidente che lì l'impatto non è solo sui singoli rapporti ma è sulle famiglie su 100 famiglie e su tutto ciò che riguarda quella realtà è evidente quindi che bisogna immaginare un percorso che oltre al profilo della individualità del rapporto si proietti in una dimensione collettiva e pubblica dell'impatto sociale di quella scelta quindi se questo è vero non c'è dubbio che se parliamo di procedure concorsuali possiamo immaginare il diritto vivente e vigente non ce lo consente in prospettiva riformatrice noi possiamo considerare una semplificazione delle procedure di licenziamento collettivo sì però non possiamo ipotizzare un superamento una abolizione una eliminazione delle procedure di licenziamento collettivo cioè vanno plasmate queste procedure nella specificità dello stato di crisi e quindi vanno assolutamente semplificate quindi non possiamo tenerle così perché parte la comunicazione di avvio della procedura il sindacato in sette giorni chiede l'incontro questa fase dura 45 giorni poi dopo i 45 giorni le parti dicono non abbiamo raggiunto l'accordo si va in ITL passano altri 30 giorni e questi termini non sono perentori e quindi 75 giorni è il minimo perché una trattativa sindacale in una procedura di licenziamento collettivo può durare pure sei mesi con i sindacati che cioè vuol dire protestano mobilitazione quindi tutto questo in una situazione di crisi aziendale che chiamiamo fallimento o che vicina al fallimento è chiaro che non è utile no? però al tempo stesso dire non me ne importa nulla io i sindacati non li vogliono neanche sentire è compatibile con la direttiva comunitaria in materia di licenziamento collettivo che non contiene deroghe sull'insolvenza non è che la direttiva in materia di licenziamento collettivo dice guardate quando c'è un fallimento non dovete potete derogare alla legge 222 o comunque alla direttiva mi sembra che questo non sia espresso e comunque non risulti neanche dall'evoluzione della giurisprenso comunitaria si può approfondire questo aspetto ma ritengo prudente in un'ottica anche riformatrice ridurre la portata degli obblighi perché questo è possibile forse si potrebbe fare anche sul piano generale perché vi dico solo una cosa in tema di trasferimento d'azienda c'è una procedura di informazione e consultazione sindacale l'articolo 47 ora quella procedura che è stata scritta più o meno nello stesso periodo di tempo che cosa ci dice ci dice che c'è la consultazione con i sindacati ma i termini sono molto stretti cioè si dice se entro un certo numero di giorni non si raggiunge l'accordo la procedura è esaurita e sarebbe forse un'idea quella di rivedere questa procedura anche nel collettivo e renderla meno pesante anche perché conosciamo che spesso questa tecnica dilatoria non ha degli effetti benefici sulla protezione dei lavoratori ma assume connotazioni cangianti e non sempre coerenti con l'esigenza di protezione che invece è suprema quando pensiamo ovviamente alla posizione giuridica del lavoratore quindi articolo 35 della Costituzione la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni chiedo scusa mi rivolgo a Pasqualino Albi non professore ma legislatore come componente della Commissione io condivido pienamente cioè rapidità nel discorso temporale anche perché fino ad oggi proprio perché c'erano questi tempi tutto era basato sulla buona volontà del curatore se lui perché probabilmente pressato dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali si attivava in tempi utili si accorciavano i tempi ma altrimenti si arrivavano a tempi lunghissimi con i lavoratori sempre in stand by e con anche potenziale responsabilità per il curatore che laddove poi non vada a buon fine la procedura di licenziamento collettivo o l'amortizzatore laddove richiesto c'è un lavoratore che può chiedere potenzialmente anche dei danni comunque sull'articolo 47 torneremo tra poco parlando anche dell'accessione dell'azienda nell'ambito dei concordati preventivi che era un altro dei temi indagati anche dalla ricerca potrei aggiungere solo qualcosa sulle conseguenze sanzionatorie del licenziamento collettivo illegittimo questo per semplicemente per chiudere ecco l'ultima domanda sui regimi economici e le conseguenze allora sostanzialmente se noi parliamo di licenziamenti e procedure di crisi in senso lato quindi insolvenza che diventa fallimento noi parliamo o di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o di un licenziamento collettivo quindi fino al massimo di 4 diciamo licenziamenti nell'arco di 120 giorni si può parlare di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ora qui parte tutta una serie di differenziazioni normative cioè se parliamo di un'impresa che ha più di 15 dipendenti questa impresa intanto deve eseguire una procedura di preventiva di preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione nei sensi dell'articolo 7 della legge 604 66 come modificata la legge 92 2012 è una fase di breve durata nella sostanza e poi se il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo impugnato dal lavoratore in sede giudiziale viene dichiarato illegittimo dal giudice la conseguenza può essere diversa cioè se il giudice che dichiara l'illegittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo si avrà la reintegrazione attenuata e cioè la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonché la corrisponzione al medesimo di una indennità non superiore a 12 mensilità se invece il giudice dichiara l'illegittimità del licenziamento ma non c'è la manifesta insussistenza la conseguenza è una tutela indennitaria da una soglia minima di 12 mensilità a una soglia massima di 24 se mi chiedete quando c'è la manifesta insussistenza e quando no dobbiamo dire che è impossibile stabilirlo preliminarmente tanto è vero che sono studi statistici elaborati anche recentemente quando c'è un licenziamento individuale giustificato motivo oggettivo in area diciamo così sopra la soglia dei 15 dipendenti nell'80% dei casi si fa una transazione perché gli avvocati del datore non sono in grado di prevedere cosa può succedere a volte non lo sa neanche il giudice perché è così complicato dire che cos'è la manifesta insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo che io ci ho provato i giuristi di lavoro ci provano una spiegazione ma alla fine hai l'impressione di non trovare mai con chiarezza una soluzione accettabile se invece parliamo di un licenziamento individuale siamo sotto quella soglia come dicevo prima la conseguenza è una soglia dimensionale dei 15 dipendenti la conseguenza è da 2,5 a 6 o se si rientra nel nuovo regime quindi del Jobs Act contratto telecrescenti 4,24 o addirittura sempre in Jobs Act contratto telecrescenti se parliamo di un vizio procedurale legato al licenziamento in livello giustificato motivo oggettivo avremo 2,12 da un minimo di 2 a un massimo di 12 quindi si abbassa ulteriormente la tutela indennitaria quando invece parliamo del licenziamento collettivo la conseguenza anche qui se parliamo di rapporti sorti da prima del 7 marzo 2015 avremo in caso di violazione della procedura di informazione e consultazione prevista dall'articolo 4 commida 2 a 12 della 229 avremo la tutela economica 12,24 mensilità in caso di violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi articolo 5 della 223 avremo invece la reintegrazione attenuata e questo per effetto della riforma Fornero del 2012 non ditemi perché perché non so darvi una spiegazione cioè perché in un caso c'è la reintegrazione attenuata nell'altro invece c'è la tutela economica 12,24 lo sapremo non lo sapremo mai probabilmente se invece e qui sulle conseguenze economiche credo di poter chiudere se invece parliamo di un licenziamento collettivo comunicato a lavoratori i cui rapporti di lavoro sono sorti dal 7 marzo 2015 la conseguenza è 4,24 un'indenità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 quindi per capirci il datore di lavoro avvia una procedura di mobilità che riguarda sia lavoratori assunti prima del 7 marzo sia lavoratori assunti dal 7 marzo quei lavoratori vengono licenziati sia un po' di qua e un po' di là dalla soglia temporale del 7 marzo impugnano il licenziamento quelli assunti dal vengono reintegrati o percepiscono se il licenziamento è illegittimo percepiscono da 4,24 quelli assunti dal non vengono reintegrati quindi nello stesso posto di lavoro ci sono persone che lavorano fianco a fianco che sono destinatari di una protezione giuridica diversa contro licenziamenti illegittimi questo è un bel rompicapo a me viene in mente di come sia importante invece nelle procedure a parte tutto il rilievo ovviamente nelle fallimentari ma nelle procedure di concordato preventivo che ci sia un'attenta valutazione delle modalità di ristrutturazione dell'impresa e una puntualissima valutazione di quelle che sono le conseguenze economiche per cui in cui tra gli advisor imprescindibili vi è un giurista del lavoro che sappia veramente guidare l'impresa e sappia veramente articolare e veicolare nel piano tutte quelle che sono le corrette valutazioni delle conseguenze delle modalità con cui la ristrutturazione anche dal punto di vista del personale trova la sua attuazione veniamo adesso e lasciamo un attimo riprendersi il professore ad alcune questioni invece del quotidiano della gestione della missione al passivo non ci dilunghiamo ad ora sulla competenza del giudice e la ripartizione di competenza del giudice fallimentare e del giudice del lavoro anche perché si tratta in realtà di confini ben delineati nella giurisprudenza della Cassazione insomma abbastanza chiaramente riconoscibili invece una questione su cui si dibatte su cui c'è attualmente una nettissima frattura tra un recente orientamento alla Cassazione e tutti i giudici di merito compatti è quella se i crediti dei lavoratori dipendenti debbano essere ammessi al passivo all'ordo previdenziale fino a qui direi che siamo tutti d'accordo all'ordo fiscale ma al netto o all'ordo previdenziale e qui netto o all'ordo previdenziale di quale quota di contribuzione si parla e si può parlare per poi passare invece al tema delle questioni che sono sempre all'ordine del giorno nella missione al passivo e su cui accorre un'attenzione attenta dei curatori e una specificazione nel progetto di ammissione e una pari analiticità del decreto di ammissione da parte del giudice delegato sulle questioni in tema di previdenza complementare e dei fondi di tesoreria con il questionario OCI avevamo scandagliato quali erano gli orientamenti dei giudici di merito e in cui come vedete sul se l'ammissione sia al netto all'ordo degli oneri previdenziali c'era una ripartizione proprio 50-50 devo dire con una prevalenza dell'orientamento sul netto vorremmo chiarirci in realtà e per questo nessuno meglio dell'avvocato Bonetti che è un avvocato IMSS su quali sono gli effetti veri sul campo anche in tema di indebiti e arricchimenti di duplicazione dei crediti e irrecuperabilità del credito previdenziale ove il contributo sia corrisposto al lavoratore e contemporaneamente sia invece richiesto insinuato al passivo da parte dell'IMS che è l'unico legittimato a richiederlo e guarda un po' solo nei confronti del datore di lavoro per cui su questo poi c'è un'altra questione in tema di ticket sui licenziamenti ma la vedremo dopo prego di nuovo indietro come mai non lo so scusatemi quindi torniamo così allora la questione della competenza giustamente come ha detto la dottoressa si ma proprio la dico rapidissima la definizione non la volete allora l'ordo è netto ma si fa così ai giudici delegati giustamente io davanti al giudice davanti al terzo io devo stare assolutamente problematica l'ordo netto attenzione non è banale io anche recentemente in un paio di convegni ho trovato comunque uno o due persone che sono alzate continuando a dire io comunque ammetto sempre il netto ovvero quello che nello statino paga risulta in finali 1500 euro finali quindi trovate ancora colleghi curatori che sono convinti di questa idea ma ricordatevi che dal punto di vista fiscale tanto il curatore in sede di riparto quanto l'Inps allora quando eroga il trattamento di fine rapporto le ultime tre mensilità con il fondo di garanzia sono sostituti di imposta il curatore addirittura dal 2006 quindi ce ne vuole ergo non infatti insinuare le somme al netto perché altrimenti noi non possiamo fare altro che lordizzare quella somma perché una quota parte di ritenute all'erario gliele dobbiamo dare sul punto e forse abbastanza non dico innovativa come novità non ce ne erano tanti precedenti giurisprudenziali c'è stata la corte di appello di Firenze sezione lavoro a seguito di una causa fatta da un lavoratorio il quale ha insinuato il netto il curatore mi pare gliel'abbia ammesso al passivo alla grande poi è andato ovviamente all'Inps chiedendo il netto più anche l'ex cioè lui voleva quell'importo lì l'Inps ha detto no io ti lordizzo questa somma non ti do più il 1500 1500 meno la ritenuta fiscale che ti spetta al che è andato davanti a un giudice del lavoro e in primo grado ha ottenuto ragione quindi il giudice del lavoro ha detto sì è giusto che l'Inps paghi anche l'extra a fronte addirittura di uno stato passivo che era per un importo minore l'Inps è ricorso in appello e il giudice Stenzone Tarquini ex magistrato pisano quindi lo conosciamo tutti e tre su questo tavolo può essere tenuto a pagare altro che l'importo dell'ammesso importo che ovviamente è determinato ex legge all'ordo delle ritenute fiscali ovviamente stiamo parlando qua che il curatore sarebbe obbligato a versare in caso di pagamento con un eventuale riparto e cui ammontare non è destinato al lavoratore con la conseguenza che se è l'Inps a dover poi pagare con il fondo di garanzia l'istituto accollante dovrà versare al lavoratore eccedente l'importo del credito effettivo di questo cioè quello che è stato ammesso punto arrivederci e grazie e quindi se ne è tornato a casa con le pive nel sacco gran più vi dico solo una cosa il giudice inglese se vede se c'erano questa plomba sono lontani ebbene quando non gli torna che nessuno faccia l'eccezione dicono di dare exception ho sentito dire eccezione ecco sta bene che il giudice delegato dica scusa avvocato o al lavoratore chi c'è alla camera del lavoro scusate ho sentito dire che rettificate la domanda e chiedete l'ammissione all'ordo invece che per l'importo al netto che avete chiesto ecco per cui se non lo fa nessun altro ci sta bene che lo faccia il giudice delegato mandiamo il giudice in corte dei conti perché fa pagare più soldi all'Inps no sto scherzando ben più nuova veramente anche dal mio punto di vista è stata la questione dell'ordo previdenziale quasi è stata una sentenza abbastanza innovativa questa della Cassazione questo arresto il 23 426 del 2016 che ci viene a dire che cosa che il lavoratore è legittimato a insinuare il passivo non solo il lordo fiscale ma persino il lordo previdenziale premessa una base normativa ci deve essere il rapporto previdenziale è il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore il datore di lavoro verso i contributi l'Inps ha cimpiense chiedo scusa l'Inps ha cimpiense se li se li prende e poi c'è un rapporto assicurativo tra l'Inps e il lavoratore in presenza di determinati requisiti ovviamente io erogo le prestazioni che siano pensionistiche o che siano di prestazioni a sostegno del reddito ammortizzatori eccetera il datore di lavoro ogni mese parliamo ovviamente di un rapporto di lavoro di natura subordinata deve versare deve presentare una dichiarazione obbligatoria all'Inps entro il 16 del mese successivo a quello in cui i contributi si riferiscono e altresì deve denunciare questi contributi e quindi poi versare i contributi stessi contributi che ammontano per il laboratorio subordinato circa il 32% di cui 9,19 è la quota cosiddetta a carico del lavoratore di fatto il datore di lavoro la paga ma fa una sorta di rivalsa trattiene queste somme a carico del lavoratore io tra l'altro ancora quando ero a Pordenone 15 anni fa ho avuto un meraviglioso imprenditore che addirittura ha fatto la causa perché voleva dire che il datore di lavoro non doveva essere nemmeno sostituto di imposta figuriamoci previdenziale lui voleva semplicemente dare al lavoratore non i 1.500 netti ma i 2.500 che si arrangi mi sono costituito tra le altre cose dicendo guardate che un operaio medio alla terza settimana già pulisce il netto figuriamoci con l'ordo e poi non c'è nulla né per pagare le tasse né per pagare la previdenza dedo ciò che ci viene a dire la Cassazione in maniera innovativa in caso di condanna del datore di lavoro al pagamento a favore del lavoratore della retribuzione a questi non corrisposta la quota contributiva altrimenti dovuta al lavoratore rimane definitivamente a carico del datore di lavoro e poiché non è configurabile un diritto del lavoratore a invocare in proprio favore l'adempimento dell'obbligazione contributiva nei confronti del datore di lavoro io posso chiedere soltanto delle prestazioni retributive mai contributive ecco che il credito retributivo del lavoratore va messo al passivo del fallimento del dato di lavoro all'ordo della quota contributiva altrimenti il gravante sul lavoratore è in privilegio quindi due novità in una quasi uno sconto abbiamo da un lato l'ammissione all'ordo previdenziale e non solo faccio passare quello che in origine è un contributo è un contributo a carico del lavoratore ma sempre un contributo ai sensi 2751 bis numero uno tutti coloro che fanno fallimentare con un po' anche di incursione nel mondo del lavoro sono rimasti un po' basiti e cosa ci dice il datore di lavoro a sensi la legge quella sulla contribuzione a quota carico e la legge del 1952 a 2018 può procedere quindi dal ritorno previdenziale a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento quindi se tu datore di lavoro mensilmente paghi i contributi la tua quota è anche quella del datore di lavoro e quindi gli fai la rivalsa se tu non paghi i contributi a questo punto io dice la Cassazione ti bastono ti bastono in che maniera? nella maniera che il lavoratore viene a insinuarsi al passivo per il lordo previdenziale quindi anche per questo 9,19 a carico del lavoratore ma in più e questa se vogliamo forse l'incongruenza dice la Cassazione impregiudicato il diritto dell'Inps che è il vero creditore perché ragazzi chi paga le pensioni siamo sempre noi impregiudicato il diritto dell'Inps di insinuare il medesimo importo ai sensi del 2753 crediti obbligatori per invalidità vecchiai superstiti quindi notere il brusio giustamente viene colto perché di fatto c'è una sorta di illecito arricchimento del lavoratore perché si ritrova l'Inps che si insinua e si trova i contributi ma in più si prende sto bel pacchettino di contributi a sé stanti che se li prende si li va a guadagnare si li va a spendere al bar il giorno dopo con un dramma del sistema poi ci rimette quindi due volte o meno paga due volte la curatela laddove ovviamente con i piani di riparto si arrivi fino a 2753 ma altrimenti chi è corruto e maziato rimane l'Inps non perché lo rappresento ci mancherebbe è un ragionamento proprio oggettivo nel senso che il lavoratore va a prendere arriva primo della fila se il fallimento ha un attivo sufficiente e guadagna lui questi contributi a fronte di un Inps che comunque in base al principio dell'automatismo delle prestazioni 2116 gli erogherà comunque quella pensione con quei contributi quindi un sistema un po' ora so che ci sono tanti magistrati di Cassazione oggi però non voglio ovviamente però l'abbiamo approfondito apposta perché speriamo che ci sia un orientamento più meditato e tra l'altro non è un indirizzo singolare perché tra l'altro era già stato fatto era passata più sotto silenzio nel 2011 e nel 2015 però una prima pronuncia era quasi un obiter marginale invece questa è stata più affrontata in modo più deprofesso anche se devo dire in modo non ancora veramente approfondito e invece veniamo alle questioni di quali sono i rapporti poi del fondo di garanzia dei lavoratori con il fondo di garanzia una volta ammessi e poi vedremo la previdenza complementare sì fondo di garanzia io lo trascurerei nel senso che penso che visto che siamo tanti anni vista l'ora io lo considero sempre un triangolo ai cui vertici abbiamo il lavoratore la procedura fallimentare e l'IMS il lavoratore va ad insinuarsi al passivo viene potenzialmente speriamo di sia ammesso decurtato quello che è dal curatore col prevedente del giudice delegato torna indietro poi va dall'IMS a chiedere ovviamente il tantundem al fondo di garanzia l'IMS lo paga e si surroga una volta mediante insinuazione oggi attraverso il procedimento di formale rettifica lo stato passivo 115 ultimo comma e chiude questo potenziale immaginario triangolo andando quindi entra nello stato passivo al posto ovviamente del lavoratore questo è lo stato il fondo di garanzia come l'abbiamo conosciuto tutti ex 297 del 82 e decreto giuriativo 80 del 1992 ad onore del vero ce ne sono dozzine di problematiche in materia di trasferimento di imprese ma lasciamo perdere e concentriamoci piuttosto su queste che sono un po' più sconosciute o più rare situazioni un pochettino più difficili da interpretare fondi complementari sappiamo che a livello di fondi complementari abbiamo tre tipologie fondamentalmente i fondi chiusi cioè quelli che i laboratori subordinati e solo essi possono stipulare attraverso le organizzazioni sindacali con le parti datoriali e sono per appartenenti a un determinato comparto a una determinata area anche geografica ci sono quelli del Friuli, Venezia, Giulia Trentino, Leto, Adige, Veneto a una determinata categoria a una determinata azienda poi ci sono i fondi complementari aperti aperti a qualsiasi lavoratore istituiti da banca assicurazioni società di implementazione immobiliare società di gestione del risparmio infine abbiamo i fondi quelli cosiddetti piani d'accumulo i FIP i fondi integrativi pensionistici quindi il famoso pezzettino un po' alla volta che vengono sono dei contratti individuali li possono fare qui vis de popolo dalla culla alla tomba come suol dire sono dei contratti individuali fatti appunto con primarie imprese di assicurazione che cosa conferisce un lavoratore subordinato alla previdenza complementare fondamentalmente tre cose il trattamento di fine rapporto ecco perché all'inizio avevo messo tra le fonti di 2120 il contributo lui può dare un contributo personalmente del lavoratore e solo in questo caso anche il datore di lavoro può erogare deve erogare un contributo nel limite massimo dell'1% tranne patruzioni di contratti collettivi che prevedano delle situazioni migliori di fatto il decreto legislativo 252 del 2005 ha previsto che i lavoratori subordinati entro sei mesi dal primo gennaio del 2007 o entro sei mesi dalla loro assunzione avevano la facoltà di optare optare per lasciare il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro ovvero conferirlo alla previdenza complementare anche per quanto attiene al fondo di garanzia c'è uno specifico iter che non è il medesimo di cui ha trattamento di fine rapporto le ultime tre mensilità ed è disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo 80 del 92 che cosa integra che cosa va a saldare questo fondo di garanzia il contributo datoriale che ovviamente l'impresa non ha versato il contributo o meglio la quota parte del lavoratore che l'impresa gli ha trattenuto senza però girarla il fondo di previdenza complementare e ancora il trattamento di fine rapporto che mensilmente l'azienda gliel'ha preso ma a causa dell'insolvenza non l'ha girato a cometa generali alliance chi volete voi ricordiamoci però che sono due binari distinti uno è il fondo di garanzia per tfr e ultime tre mensilità o crediti diversi dove la prestazione viene chiesta all'inps dal lavoratore e dove l'inps paga al lavoratore sono emolumenti retributivi l'altro è il fondo di garanzia destinato alla previdenza complementare dove la prestazione in base alla teoria che dico io poi ve la spiego viene chiesto comunque all'inps dal lavoratore ma l'inps non deve pagare il lavoratore ma deve pagare sono contributi la previdenza complementare può anche pagare per l'amore di Dio anche il curatore può ammetterlo tutto come tfr normale senza i 2120 sarà felice oggi di il lavoratore perché incassa subito tutto ma in ottica prospettica avrà una posizione previdenziale integrativa molto più desolante i due problemi fondamentali che si intersecano in materia di previdenza complementare con le procedure concorsuali sono essenzialmente due chi è legittimato ad insinuarsi al passivo e qual è la natura del credito oggetto della domanda due tesi per la prima tesi il trattamento di fine rapporto ha natura di contributo fino dal momento della domanda quindi ha subito natura eccoci qua ci siamo stavolta ha subito natura previdenziale per i fautori di questa tesi e perché lo dicono? perché ci sono tre fondamentali distinzioni tra il TFR conferito e che rimane in azienda al senso di 2120 e il TFR conferito alla previdenza complementare per esempio in punto incremento del valore se io guardo 2120 del codice civile cos'è il TFR? la somma delle retribuzioni percepite in un determinato anno diviso 13.5 che è la via di mezzo tra la tredicesima e la quattro dicesima prevista nei contratti collettivi annualmente rivalutato per una cifra fissa che è l'1.5 e una cifra variabile che è il 75% del costo della vita su base Istat questo è il TFR rimasto in azienda come si incrementa invece il valore del TFR conferito in previdenza complementare dipende dal fondo previdenziale integrativo a cui io ho aderito che sia dinamico azionario obbligatorio io ho messo i miei soldi in previdenza complementare nel 2008 è stata una tragedia perché è andato giù lo metto nel 2012 con le borse che vanno su e quindi si rivaluterà molto più del TFR rimasto in IMS seconda differenza disciplina delle anticipazioni nei 2120 prevede rigidissime anticipazioni un'unica volta nel corso della vita lavorativa dopo otto anni per acquisto della prima casa per sé o per i figli o spese mediche di particolare gravità la previdenza complementare e poi i singoli contratti prevedono determinate deroghe prevede anche più possibilità di chiedere l'anticipo della previdenza complementare nel corso della vita e poi c'è anche una possibilità di chiederlo modalità varie ed eventuali quindi io posso chiedere un'una tantum anche nei limiti del 30% terza differenza il trattamento fiscale il trattamento fiscale del 2120 la cosiddetta liquidazione del lavoratore in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro e soggiace alla disciplina della tassazione separata ovvero media degli ultimi due anni fiscale mentre il trattamento fiscale della previdenza complementare è completamente diverso molto più agevolato si paga una tassa fissa del 15% a meno che uno non sia iscritto in questo fondo da più di 15 anni quindi c'è un abbattimento del 0,30 per ogni anno successivo al 15esimo fino ad arrivare a un plafond minimo del 9% quindi molto più favorevole rispetto al TFR rimasto in azienda conclusivamente per i fautori di questa tesi il creditore di questo contributo è il fondo di previdenza complementare in quanto destinatario della contribuzione e in base al contratto individuale o nel caso di fondo chiuso collettivo stipulato con i lavoratori ma io subito vi metto lì due piccole eccezioni se seguiamo questa tesi primo punto allora il curatore nel momento stesso in cui arriva la sentenza dichiarativa di fallimento e prende possesso delle aziende tra le mille cose che deve fare deve anche andare a cercare tra gli incartamenti e non sempre nelle SRL si trovano queste meravigliose documentazioni fiscali o libri unici del lavoro deve anche andare a cercare uno per uno tutti i fondi di previdenza complementare a cui i singoli lavoratori hanno aderito ed è un macello secondo eccezione ragionando in questa maniera cioè facendo capire ritenere che questo TFR diventa subito contribuzione a questo punto cambia anche il privilegio non è più un privilegio ai sensi 2751 bis numero uno dal lavoratore subordinato ma è un contributo e i contributi hanno due articoli sul codice civile 2753 per i contributi obbligatori e per i contributi minori come non può non essere ritenuto questo 2754 alla fine qui chi potrebbe essere potenzialmente danneggiato è l'IMSS perché in sede di surroga poi con il fondo di garanzia andrebbe ad avere un trattamento sicuramente deteriore con scarsissime possibilità di realizzo seconda tesi partiamo dal dato normativo dall'articolo 5 del decreto legislativo 80 il lavoratore ove il suo credito si è rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto e ancora può chiedere al fondo di garanzia eccetera eccetera e ancora il fondo è surrogato di diritto al lavoratore per il tantunden dei contributi omessi quindi se noi leggiamo letteralmente la norma il creditore non può che essere il lavoratore anche perché pensateci bene il lavoratore ha tutto l'interesse di insinuare il proprio credito anche dal punto di vista di previdenza integrativa perché è un credito che appunto domani avrà interesse ad avere le assicurazioni lo possono fare come non fare ma essendo un regime a capitalizzazione le assicurazioni cosa dicono se io ricevo il contributo ti pago un euro in più se non lo ricevo ti pago un euro in meno non hanno questo interesse questo calore proprio nell'attivarsi all'interno della procedura concorsuale è il motivo per cui secondo me il legittimato chiedere il TFR è conferito al fondo del dipendente che prima si insinua il passivo anche per tale voce e poi chiede la liquidazione al fondo di garanzia privilegio in questo caso rimane il 2751 bis numero 1 e quindi il termine contributo di cui in un certo punto della legge si facenno è utilizzato nell'ottica di finanziamento alla previdenza complementare ma la destinazione impressa dal lavoratore non fa cambiare la natura retributiva di quel TFR perché il TFR che cos'è di fatto è una retribuzione erogata a seguito di una risoluzione del rapporto di lavoro a carattere differito che solo ed in quanto se viene conferito in previdenza complementare assume caratteristiche previdenziali pertanto il lavoratore deve avere optato per avere accesso al fondo di garanzia quindi andiamo sul pratico avere optato per un fondo di previdenza complementare il solito mantra aver cessato il rapporto di lavoro subordinato deve insinuarsi tempestivamente o tempestivamente allo stato passivo il curatore questa volta ammetterà gli importi come richiesti salve ovviamente che non ci siano eccezioni di inammissibilità e quello che io caldamente consiglio specificare nelle note a margine quello che è il TFR ordinario e quello che è il TFR destinato alla previdenza complementare perché poi alla fine i beneficiari saranno due soggetti completamente diversi lavoratore per uno previdenza per l'altro mi è stato chiesto di fare una bozza non è sicuramente un formulario di quello su cui studiavamo trent'anni fa ma semplicemente Tizio ridipendenza di alfa dal al con qualifica di operaio impiegato quadro dirigente quello che è ovviamente va specificato il contatto collettivo il livello quello che è vanta crediti nei confronti di un'impresa alfa per cento divisi come 20 per contribuzione con specifico ovviamente dei mesi 5 per ferie indennità di ferie permessi non goduti indennità assolutiva preavviso e altre cose che non ci interessano ovviamente scrivo tre quota a parte la tredicesima e la quattordicesima vanno insinuate non per l'intero ma per avendo io diritto a livello di ultime tre mesi di tà io devo insinuare i tre dodicesimi di tredicesima e i tre dodicesimi di quattordicesima e ancora rivendico i 62 per che ne so di TFR di cui 40 per TFR rimasto in azienda quindi quello ai sensi del 2120 e 22 per TFR conferito al fondo di previdenza complementare potremmo fare ancora un esempio ancora più raffinato mi viene in mente adesso che dei 62 euro di 62 di TFR io chiedo che ne so 30 per TFR ai sensi del 2120 10 per TFR che è andato al fondo di tesoreria di cui infra vi parlerò fra un minuto e altri 22 più di due minuti sì assolutamente che vi chiedo scusa perché perché può essere che il lavoratore nel momento stesso che ha avuto la possibilità di optare o meno all'inizio non abbia optato per un fondo di previdenza complementare abbia lasciato i soldi in azienda e quindi magari sia stata un'azienda con più di 50 dipendenti e quindi tu curi le somme siamo andate al fondo di tesoreria e poi chiede la missione passivo dall'altro lato questo potrebbe essere molto opportunamente delle istruzioni date ai creditori nella comunicazione che i curatori fanno ai creditori stessi ai fini dell'insinuazione di formularle con modalità di questo tipo e il curatore ha preso atto la domanda di Tizio così nel suo progetto di stato passivo io dico questo sarebbe l'ideale a mettere il passivo di 100 in privilegio ovviamente non mi interessa a che motivo ma soprattutto quello che è la specifica di cui 40 per TFR e questo si vede in qualsiasi progetto passivo ma molto più raro si vede di cui tot per la previdenza complementare perché sono in questa maniera i funzionari OIMS che rendetevi conto abbiamo difficoltà noi a interpretare le norme fallimentari e lavoristiche i funzionari OIMS non è che abbia questa capacità così quindi più chiaro è meglio è e più veloce arriva il pagamento questo è sicuro fondo di tesoreria rapidissimo speriamo anche questo istituito con la finanziaria con la 2,96 del 2006 parte dal 1 gennaio 2007 dimentichiamo tutto quello che abbiamo detto in materia di fondo complementare perché questo di nuovo è un trattamento di fine rapporto to cure classico del 2.120 del codice civile riguarda soltanto le aziende che abbiano più di 50 dipendenti al 2006 o nell'anno se successivo di costituzione e relativamente ai soli lavoratori che non abbiano optato per la previdenza complementare quindi del gruppo FIAT il TFR una volta rimaneva in azienda dal 2007 i lavoratori hanno avuto la possibilità di metterlo in previdenza complementare per coloro che non sono andati in previdenza complementare vanno in fondo di tesoreria chi sono i datori di lavoro obbligati a versare i contributi al fondo tutti appunto quelli che hanno più di 50 dipendenti ivi compresi le ex municipalizzate gli enti pubblici privatizzati gli enti pubblici economici il legislatore qui è stato lungimirante e molto meticoloso rispetto al solito ha precisato in maniera espressa che ne sono escluse da questa disciplina le pubbliche amministrazioni cosa molto importante che per evitare quei bailam guardo Pasqualino Albi quello sui licenziamenti nelle pubbliche amministrazioni si applica a Fornero si no si applica al Jobs Act si no qui l'ha detto il fondo di tesoreria non si applica come anche non si applica e questo mi preme a quest'ora di farvi questa sottolineata non si applica ai datori di lavoro domestici l'unico problema è io non mi vedo questo arzillo 82 n con 51 badanti ucraine che deve per dire di vero ce n'era uno ma girava tra arcore e palazzo chigi ma adesso non mi pare faccia più lasciamo perdere fondo di tesoreria fallimento la questione fondamentale è questa se il datore di lavoro poi decotto non ha versato totalmente o parzialmente queste quote di TFR che erano destinate ai fondi di tesoreria che cosa succede? il lavoratore in base a questo carattere retributivo che vi ho ribadito nel 2120 deve insinuarsi al passivo la domanda mi pare era il fallimento è l'esittimato passivo allora ripercorriamo rapidamente le norme articolo 1,756 delle 296 e l'articolo 1 del decreto ministerial attuativo definiscono l'emolumento come contributo il secondo coma dice che la retribuzione da prendere riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinato a ex 2120 e si applicano tutte le materie in termini di accertamento eccetera tu datore di lavoro non mi versi né il termine i contributi ti carico le sanzioni civili come se fosse un contributo obbligatorio in realtà il TFR destinato al fondo quindi a natura contributiva ma il creditore e sì il lavoratore e non ci piove perché è una liquidazione come la chiamavamo noi una volta tutti gli effetti in identità e in anzianità il lavoratore se c'è un fallimento non può fare altro che agire per il tramite del suo in quel momento datore di lavoro cioè il curatore ma va a rivolgersi direttamente all'IMS perché i soldi potenzialmente sono arrivati all'IMS ma anche se non sono arrivati all'IMS esiste anche per il fondo di tesoria il principio dell'automatismo delle prestazioni cioè queste somme sono comunque garantite al lavoratore quindi non devono andare a chiedere il fallimento non li ha anche se è stata un'enadempienza quindi il fallimento è legittimato passivo e debitore non verso il lavoratore ma verso l'istituto che prima dà le somme al lavoratore una volta richieste e poi va non è una surroga va a chiedere attraverso una semplicissima normale insinuazione ovviamente tardiva va a chiedere queste somme alla procedura fallimentare e sul punto io chiederei ai curatori di non cominciare a dire è passato un anno da certamente passivo perché per far sì che tutto questo item vada in porta molto spesso si sfora i termini di cui è il 101 della legge fallimentare appunto perché qui non c'è nessuna surroga e quindi automatismo delle prestazioni una volta corrisposto il dovuto da parte del fondo di tesoreria è soddisfatto il prestatore quindi l'IMS recupererà il credito nei confronti del datore di lavoro se in bonus o nei confronti della procedura fallimentare insinuandosi come lo fa se il datore di lavoro era stato comunque serio prima della decossione attraverso le denunce obbligatorie che il datore di lavoro aveva fatto cioè gli uniemens se non ci sono incartamenti non c'è sguinzaglio i miei ispettori vanno a fare i conteggi e si insinuano la ringrazio allora ci restano da affrontare sì davvero è stato completissimo devo dire ho due due dibattiti un dibattito vivo con questi relatori e veniamo alle una a largo si no vado a oltre sì alle ulteriori questioni saltiamo questa questione molto minuta sul il ticket for nero invece sempre nei questionarii oggi c'erano state affrontate le questioni sull'affitto d'agenda e fallimento e quella che avevamo intenzione di affrontare ma ci limitiamo in realtà a proiettare la slide è quella sulla questione di emissione al passivo del lavoratore trasferito all'affittuario perché una delle questioni che spesso i curatori in cui spesso si imbattono è quello se in caso di affitto di azienda precedente alla dichiarazione di fallimento il lavoratore nel frattempo trasferito alle dipendenze dell'affittuario e soprattutto quello che prosegue al rapporto di lavoro abbia il diritto di essere ammesso al passivo dell'affittante per il solo credito maturato fino alla dichiarazione di fallimento e qui anche in realtà la decisione della Suprema Corte è stata nel senso anche per il TFR maturato con un problema che si pone poi per l'Inps in realtà se questo sia o meno esigibile fin tanto che il rapporto di lavoro non sia cessato e pertanto può essere opportuno laddove i fallimenti si chiudano senza nessuna soddisfazione dei lavoratori né speranza di surroga felice per l'Inps di specificare se alla data della decisione sullo stato passivo il rapporto di lavoro sia cessato o meno in modo che risulti qual è la situazione relativa non già all'accertamento del credito che si cristallizza molto opportunamente anche per gli eventuali rapporti con la controparte del rapporto di affitto o in caso di gestione di azienda e però per ogni futura questione è di lasciarla qui abbiamo già esaminato una questione volevamo dire i modelli SR52 adempimento del curatore l'Inps finalmente ha preso atto che non è il curatore non è tenuto ci sono molti curatori estremamente gentili che lo fanno e risolvono i problemi ai lavoratori e all'Inps ma in difetto l'Inps ha comunque dimanato una circolare su quali sono le modalità con cui può comunque essere può provvedere il lavoratore direttamente a seconda delle varie ipotesi però su questo ci sono le circolari Inps e veniamo invece a un tema che rimettiamo al professor Albi sulla base se lo può allargare che è bravo questo questionario oggi sempre sui rapporti di lavoro concordati preventivi e mentre ci sono vedete sullo sfondo le slide delle domande che erano state fatte sulla prosecuzione dei rapporti direi di andare a quelle dopo sulle moratorie dei pagamenti in realtà i problemi veri sono quelli sull'attivazione dei proceduri di licenziamento ma la questione più spinosa sono in realtà quelle che sono le interferenze di nuovo tra la disciplina fallimentare della disciplina giuslavoristica in materia di trasferimento di azienda o di cessione di ramo di azienda e la disciplina dell'articolo 47 della legge 428 del 1990 e qui le domande e il tema che verrà sviluppato dal professor Albi è quello di quali sono i rapporti tra l'articolo 105 della legge fallimentare l'articolo 2.112 le deroghe possibili e l'articolo 47 della legge 90 e di nuovo anche qui con riferimento alla normativa europea io non escludo di dovermi allontanare prima che lei vada ma dopo di questo mi verrò sostituita da Edi Ragaglia che darà là al per ora non c'è fretta per ora non c'è al dottor Bonetti sull'ultimo tema della nostra sessione che attiene alla cassa integrazione potrà così anche salutarvi per cui il professore può di nuovo proseguire a sviluppare per l'accessione d'azienda e questi temi davvero un attimo solo prima perché salutiamo allora la collega governatore che se ne va che è stata peraltro bravissima una sessione di tanto interesse che non ha fatto scollare ancora le persone nonostante l'ora finiamo quest'ultimo argomento grazie Silvia veramente eccezionale sei stata no davvero io sarò diciamo più breve ovviamente sul tema del trasferimento d'azienda e delle sue interazioni con le procedure concorsuali perché in questo caso possiamo dire che intanto non abbiamo così tanto tempo e quindi dobbiamo comunque essere estremamente sintetici e in secondo luogo perché da questo punto di vista la disciplina vigente a mio avviso ci dà un riferimento molto chiaro l'articolo 47 comma 5 della legge 428 del 90 è disposizione che ha effettivamente diciamo risolto una parte significativa delle questioni perché sostanzialmente premessa parliamo del trasferimento d'azienda e del suo intreccio con il diritto del lavoro quindi sappiamo che c'è una disposizione specifica l'articolo 2112 del codice civile che è stata oggetto di riforme fin dagli anni 90 per conformare anche da questo punto di vista il nostro ordinamento al diritto comunitario perché il diritto comunitario sostanzialmente impone una disciplina di forte protezione giuridica per il lavoratore coinvolto nelle vicende traslative dell'azienda e questa protezione consiste nel garantire a la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario prima grande questione b nel salvaguardare il profilo retributivo del rapporto quindi garantire quindi che diciamo ad esempio vi sia una responsabilità solidale fra il cedente ed il cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento e quindi continuazione del rapporto di lavoro e qui in questo senso il 2112 è chiarissimo il rapporto di lavoro continua con il cessionario ad essere chiari ricordiamo che il nostro 2112 già prima della riforma del 90 parlava di continuazione del rapporto con il cessionario però c'era una piccola differenza e che nel nel codice del 42 come ricordavo prima ovviamente la continuazione del rapporto di lavoro avveniva in un contesto nel quale c'era il libero licenziamento perché poteva anche continuare ma poi poteva liberamente cessare quel rapporto ecco la protezione giuridica accordata al lavoratore nel quadro delle vicende traslative dell'azienda e quindi tutto ciò che è riconducibile dal 2112 ovviamente subisce delle variazioni ove il datore di lavoro sia in una situazione che è quella delle procedure concorsuali e qui cosa si prevede si prevede l'articolo 47 quinto comma della legge 428 del 90 ci dice che qualora il trasferimento trasferimento d'azienda riguardi o imprese nei confronti nei quali vi sia stata dichiarazione di fallimento omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni emanazione del provvedimento di liquidazione quattro amministrativa sotto posizione all'amministrazione straordinaria nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta sia cessata nel corso e nel corso della consultazione di quei precedenti combi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione all'articolo 2.112 è quasi una sorta di paradosso ai rapporti di lavoro il cui rapporto continua non si applica il 2.112 continua ma non continua è come se ci dicesse così il legislatore ci dice i rapporti continuano ma non con le garanzie del 2.112 quindi potrebbero anche cessare quindi per favorire la soluzione benefica nei limiti in cui possiamo usare questa espressione ma comunque necessaria della crisi è necessario e ritenuto fondamentale dal legislatore liberare il datore di lavoro dai vincoli della continuazione del rapporto e quindi consentirli anche di far cessare i rapporti di lavoro questo per salvare l'impresa o per adottare i provvedimenti che comunque sono necessari non potendosi fare diversamente ma questo attenzione è possibile se c'è un accordo sindacale è questo l'elemento che occorre rimarcare cioè la gestione della crisi e la possibilità di superare in tutto in parte il numero originale degli esuberi si lega all'accordo sindacale quindi è uno snodo molto importante da mettere in evidenza cioè è possibile quindi ricorrere a delle tecniche che consentono di salvare l'impresa o comunque di adottare i provvedimenti necessari se c'è l'accordo sindacale altrimenti non si può fare nulla ma soprattutto questo accordo sindacale che noi andiamo a prefigurare è un accordo sindacale che posto che andiamo ad operare una sorta di rimozione della 2.112 lo rimuoviamo dal nostro orizzonte argomentativo ci consente poi di utilizzare in modo elastico questa disciplina perché il legislatore ci dice salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore per cui io potrei anche adottare una soluzione mediana cioè non si applica il 2.112 però in parte si applica per alcuni aspetti si potrebbe applicare e poi ovviamente si dice e si prescrive e si stabilisce che il predetto accordo sindacale può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere in tutto in parte alle dipendenze dell'alienante quindi qua che cosa si vuol dire si vuol dire che è possibile dunque ottenere attraverso questo accordo un effetto che non è invece affatto possibile quando parliamo dell'applicazione del 2.112 perché una delle regole fondamentali in materia di trasferimento d'azienda è che il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento il datore di lavoro cedente non può dire poiché c'è il trasferimento d'azienda ti licenzio perché questa affermazione è un'affermazione che non è assolutamente praticabile alla luce del diritto italiano e sulla base della direttiva comunitaria di riferimento questo attenzione non significa che se c'è un trasferimento d'azienda non sia possibile avviare processi di ristrutturazione aziendale quindi individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi significa però che quell'individuale per giustificato motivo o quel collettivo deve avere un fondamento quindi il passaggio non è siccome c'è il trasferimento d'azienda ti licenzio il passaggio è c'è un trasferimento d'azienda ti dimostro che c'è un'esigenza riorganizzativa autentica reale non fittizia e quindi ti licenzio e questo è il punto e direi che non c'è un'alternativa diversa a questa impostazione quando parliamo di una crisi aziendale di una crisi di impresa perché l'idea che i rapporti continuino con l'acquirente presuppone ovviamente che l'alienante e l'acquirente non siano in condizioni di difficoltà finanziaria di difficoltà organizzativa perché se c'è una difficoltà organizzativa una difficoltà di vario genere oggettiva comprovabile autentica reale non fittizia non artificiosa se questo è non ci sono alternative al licenziamento o comunque ad un'opera di ristrutturazione aziendale e su questo ovviamente l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che la dinamica che è rappresentata dal comma 5 dell'articolo 47 dovrebbe farci riflettere su una serie di questioni cioè quando noi e lo dicevo in premessa è davvero chiudo perché è utile andare oltre e sentire anche sulle altre questioni però diciamo la dinamica che si innesta quando c'è la crisi di impresa è una dinamica che può essere diretta anche a non solo far cessare dei rapporti di lavoro ma anche a operare una manutenzione della crisi quindi cosa intendo dire intendo dire che oggi abbiamo se guardiamo la legislazione lavoristica una serie di strumenti che si possono utilizzare proprio per gestire la crisi attraverso però gli accordi sindacali attraverso gli accordi sindacali noi potremmo per esempio immaginare vogliamo salvare un'impresa ovviamente purché ce ne siano i presupposti facciamo un accordo sindacale che prevede il demanzionamento di una serie di figure aziendali perché l'alternativa è la perdita del posto di lavoro quindi possiamo immaginare un accordo sindacale in cui si vanno a demanzionare i dipendenti che quindi in questo senso otteniamo un risparmio del costo e salviamo dei posti di lavoro si possono immaginare degli accordi sindacali nei quali si va ad operare una sorta di azione di contenimento del costo retributivo anche per un periodo circoscritto un anno due e questo per salvaguardare i posti di lavoro si può immaginare un accordo sindacale in cui si va a dire c'era un accordo aziendale che prevedeva l'indennità doccia ve la ricordate ecco quell'accordo aziendale magari lo possiamo ridefinire e salviamo cinque posti di lavoro cioè si può intervenire sulla giungla contrattuale attraverso accordi sindacali di razionalizzazione che servono a gestire le situazioni di crisi e a contenere i costi e quindi in questo senso avviare un'opera di risanamento dell'azienda ecco questa diciamo rimozione che il comma 5 dell'articolo 47 fa del 2112 possiamo immaginarla per descrivere dei processi diciamo di utilizzazione flessibile della disciplina lavoristica in un'ottica di superamento della crisi aziendale grazie allora siamo in chiusura purtroppo non abbiamo avuto tempo di esaminare tutti gli argomenti e rimane fuori un argomento che avremo a modo però di chiamare l'avvocato Bonetti a parlarcelo in un'altra occasione l'ipotesi residui perché se voi andate a casa dite ai vostri amici e conoscenti cosa hai fatto il sabato alle 13 ho parlato di CX concorsuale non penso vi rivolgano la parola prima di chiudere quindi una cosa invece molto più veloce due minuti un minuto e mezzo le d'opera che potrebbe darci un'indicazione soprattutto ai curatori indicazione praticamente sulla presentazione al momento cioè come interloquire con l'Inps nel momento in cui devono presentare nel momento in cui appunto c'è necessità praticamente di rapportarsi per valutare le domande di insinuazione al passivo e qui penso che lei ci possa dare un'indicazione precisa su una prassi ne ho già parlato anche con il professor Albi anche se sarebbe carino anche inserirlo a livello legislativo ma forse troppo io ho avuto parecchi casi ho lavorato tanti anni anche a Pisa che già da triestino consideravo senza offesa per nessuno lo dico con sorriso ovviamente è già un sud d'Italia ma non è questione di chi ho avuto parecchi casi in cui molto spesso i lavoratori aiutati ovviamente spesso da organizzazioni sindacali inserivano sotto il tappetino del TFR tutti gli importi possibili immaginabili anche perché di fronte come controparte hanno un curatore che molto spesso è più commercialista è più tecnico di altre materie magari il lavoro non lo sa vabbè è tanto povero il lavoratore l'ha detto il sindacato e si insinua il tutto al passivo un caso emblematico ho avuto una conceria zona Empoli non mi ricordo dove dove una lavoratrice che ha lavorato due mesi e mezzo operaia quindi paga base 1.100 euro qualcosa del genere ha insinuato un TFR per 7.200 euro ma si voi ridete ma è stato regolarmente ammesso al passivo 7.200 euro che se io guardo a ritroso il 2.120 che mi dice cos'è il TFR e la somma di quanto percepisco in un anno diviso 13.5 significa che lei in quei due mesi e mezzo ha portato a casa 78.000 euro qualcosa del genere grazie andiamo tutti a fare l'operaio in concerie io già ho chiamato perfetto in più c'è una barriera la barriera è data da queste pronunce della Cassazione che mi hanno lasciato abbastanza sorpreso ma non è una critica in sé è giusto il principio ma è molto difficile da interagire poi con l'operatore le Cassazioni che vi cito sono quella del novembre 2014 la 24.231 e il dicembre 2015 24.730 cosa dicono? lo stato passivo una volta reso esecutivo è il totem nessuno lo può più toccare ergo io operatore IMS che mi ritrovo un bel TFR da 7.000 euro di un'operaria per due mesi ha messo al passivo cosa devo fare? Nulla io sono riuscito a fare per fortuna un'unica causa non in questo episodio in altre perché questo non eravamo arrivati con i tempi tecnici sono riuscito a fare in un'altra fattispecie una revocazione perché nei 30 giorni sono riuscito a recuperare ho dimostrato che c'è stato un errore di fatto e in primo momento il tribunale a Pisa mi ha detto non sei legittimato perché all'epoca ovviamente io non sono in quel momento insinuato ancora il passivo perché devo aspettare che i lavoratori si insinuino e poi io mi surrogo o ancora non sono mi ha detto il giudice perché tu sei insinuato tramite guitalie siamo andati in Cassazione e per fortuna la Cassazione ha detto sei legittimato il passivo e puoi fare la revocazione qual è il suggerimento? il suggerimento sarebbe e per me lo trovo abbastanza socialmente utile far sì che i curatori in quello stretto margine ovviamente tra l'insinuazione passiva quindi 30 giorni prima della verifica e i 15 in cui io devo presentare il progetto si presentino prendono le loro belle cartoffe e vadano dal funzionario IMS preposto al pagamento del fondo di garanzia so che è un po' complicato ma fondamentalmente non è che abbiamo 600 domande di 600 persone diverse arrivano i blocchi sindacali poi ci sono ci sono pochi come dire persone che vanno singolarmente in questa maniera si va a vedere subito quelli che sono le denunce obbligatorie quelle che provengono cioè dal datore di lavoro in bonus che in questo momento il curatore sta tutelando sta sostituendo se vogliamo e sono denunce che ha fatto il lavoratore nel caso che vi dicevo io prima il consulente era stato ben furbo versava cash 7200 euro scrivendolo in busta paga ma nelle denunce obbligatorie risultava 1500 euro quindi cosa dico io sarebbe ideale che il curatore è un adempimento in più ma signori si evitano decine e decine di revocazioni e di come dire impugnazioni da parte dell'Inps oppure respinte da parte del fondo di garanzia non pensiate che sia un ragionamento che io faccio per prodomomia cioè per dire l'Inps ragazzi se viene insinuato 7000 a un lavoratore subordinato vengono fregati tutti commercialisti e 2751 bis andate qualsiasi creditore è rovinato da questa situazione quindi è un passaggio banale è una scoperta di una caccaida ma è semplicissimo in più c'è questo contatto curatore funzionario che eroga il fondo di garanzia evitando tutte le strade dei sindacati ma non ce l'ho con i sindacati ma dei lavoratori di quant'altro e ciò semplifica secondo me il tutto e anzi anticipa anche di fronte poi alle vere e proprie domande di fondo di garanzia quindi ecco che ti conosco già mandami questo mandami quello e si lavora una volta sola per tutte grazie